Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Maria De Filippi si è trasferita in Sardegna. Sono vacanze di lavoro per lei, i suoi autori, tutti quelli che viaggiano connessi con lei, con i suoi progetti. E ora il progetto, pronto a partire, è Temptation Island. A Santa Margherita di Pula, Maria, tra mare, un po' di ciclette e cene, ha portato a termine un'altra edizione di Temptation Island dove vedremo sette coppie i 26 single, 13 ragazzi e 13 ragazze, che intrecceranno le loro storie di vita e di amore. Ma c'è anche un po' d'estate nel suo viaggio in Sardegna. Ci sono per esempio le passeggiate all'alba in spiaggia con il fedelissimo Tommy, il cane del figlio Gabriele. Vederli nelle foto pubblicate dal settimanale Chi è uno spettacolo. Corrono insieme in spiaggia, giocano insieme, poi qualche carezza, qualche parolina pronunciata nell'orecchio e via all'inseguimento ancora di una pallina da riportare alla sua padrona. Quella di Temptation Island è una nuova sfida che Maria De Filippi è pronta a vincere al fianco di Mediaset dopo aver deciso di non lasciare Knoe 5 per andare a vivere una nuova. Avventura sul 9. Magari più avanti, certamente non oggi. Tra lei e Pier Silvio Berlusconi c'è un forte legame come tra il programma dei Sentimenti più seguito d'estate e Il Grande Fratello. Secondo Chi, tra i due programmi ci sarà una probabile collaborazione. Insomma, chi farà bene quest'estate potrà avere una nuova possibilità in autunno. Nel reality più seguito. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.